Dall'autorità giudiziaria di Urbino arrivano tre denunce per bancarotta fraudolenta riconducibili ad un unico gruppo familiare responsabile del fallimento di quattro società coinvolte nella fabbricazione di apparecchiature elettriche. Sono questi i provvedimenti risultati dalle complesse indagini svolte sotto la direzione della procura della Repubblica di Urbino, dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia Finanza di Pesaro, dalla compagnia di Urbino e dalla sezione di polizia giudiziaria in procura. Ad essere denunciati tre amministratori di diritto legati da legami di parentela che sono emersi dalle molteplici attività di indagine eseguite anche attraverso un arrogatore internazionale con la Repubblica di San Marino. Indagini che hanno consentito di far emergere gravi e ripetute ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzate sia occultando sistematicamente le scritture contabili al fine di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari prefallimentari sia tramite la distrazione di grandi risorse finanziarie stimabili in due milioni e mezzo di euro. Sul tavolo della procura di Urbino sono finite diverse ipotesi di falso in bilancio delle società con cui gli amministratori camuffavano la reale situazione economico patrimoniale delle imprese portando al dissesto le quattro società poi dichiarate fallite tra il 2015 e il 2019. All'esito delle indagini delle fiamme gialle la procura di Urbino ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei tre soggetti denunciati.